Daniele, voci del campo, Daily Basset, Lega 2. Avremmo potuto essere forse uno degli MVP di questa partita, ma purtroppo l'ultimo quarto non è andato come speravate. Cosa è successo? Ma ci siamo disuniti, non abbiamo giocato come primi due quarti uniti, anche in difesa. Abbiamo sbagliato molte più cose. Diciamo che la partita l'abbiamo buttata via noi, perché non siamo andati a prendercela, ma l'abbiamo aspettata. Loro sono stati bravi ad essere sempre aggressivi, anche nel momento più difficile. Adesso guardiamo avanti, la riguarderemo durante la settimana e vediamo cosa abbiamo sbagliato.